il club nascente signori buonasera 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 grazie era uno degli stati che mi mancava forse è un formato si ho fatto un spari due o tre volte si fu ricato quest'anno panno esatto questo è uno degli stati storici che mancava la collezione signori buonasera a tutti buonasera 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 questo è tutto nero l'impatto è tutto nero padroncino nero e calza nera questo è del portiere bianco bianco perfetto tanto il Cagliari gioca in giallo va benissimo ok se il Cagliari gioca in giallo è tutto buonasera buonasera Grazie Dopo, gentilmente, a piccio, eh? Per forza Cosa stai? Tutto apposta Per la speranza Per la speranza Inizierci Avete Faccio Il Future Detectare Inizierci Certi Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.